Girando per la nostra città si è l'idea di un passato straordinario perché Luca ha una fondazione che risale all'epoca pre-romana addirittura. Ma ho visto che avete utilizzato, che è stato utilizzato per il manifesto del convegno, il ponte di Borgo a Mozzano, chiamato il ponte del diavolo perché è un ponte ardito, ha un arco grandissimo e poi ne ha due ancora più piccoli. E' un ponte che risale all'epoca matildica, quindi un ponte di Canossa nel 1150 è scomparsa e quindi ha sicuramente una grandissima storia dietro. Ci sono poi delle altre strutture qui che resistono al tempo benissimo e sono state oggetto di attività che risalgono all'Ottocento. Pensi all'acquedotto del Nottolini con le arcate che si incontra venendo da Firenze-Vertoluca o viceversa sull'autostrada, tra l'altro interrotto proprio dall'autostrada, è un acquedotto che non ha avuto, nonostante le polemiche dell'epoca, alcun problema di stabilità. Quindi c'è un sistema costruttivo antico che ha risisito molto bene. Ricordo quando negli anni, alla fine degli anni 50, anni 60, si cominciò a utilizzare su larga scala il cemento armato, che pareva un materiale indistruttibile. Il cemento armato dà problemi di manutenzione. Ci sono problemi di manutenzione. Il cemento armato può essere un materiale di altissima portata per il futuro, ma ha bisogno di una grande cura, di una grande manutenzione. Ce non segnano alcuni disastri che sono accaduti, perché il nostro Paese ultimamente è stato costellato di alcuni disastri importanti. Potrei citarne alcuni che sono noti a tutti e evito pertanto di fare nuovamente la lista. Abbiamo bisogno di progettare il futuro, sicuramente, ma prendendo come primo riferimento la manutenzione di ciò che abbiamo, la conservazione di quello che abbiamo. Poi quello che non è possibile tenere va abbattuto e va ricostruito secondo criteri nuovi. L'ingegneria oggi ha possibilità di studi avanzatissimi per quanto riguarda lo Stato, la condizione manutentiva delle strutture e la tenuta delle strutture. Mi auguro che da questo convegno, da questi tre giorni di convegno, vengano prospettive utili per far sì che il nostro patrimonio possa essere conservato e laddove è necessario sostituirlo ci sia la possibilità poi di arrivare a delle sostituzioni vere. Il PNRR di cui tanto si parla può aiutarci in tal senso. Mi auguro che sia utilizzato bene.